Sembra che stia per nascere una nuova serie in cui Pupu è grande protagonista e gemoni protagonista azzardo a dire infatti pensate che il famoso cantante toscano per eccellenza si troverebbe a Uralsk precisamente in Kazakistan, territorio kazako. Dice qualcuno si potrebbe chiedere perché, perché l'uomo in questione compie, decide di compiere un viaggio importante in Medio Oriente in ben 11 tappe, in ben 11 mete che in qualche maniera avranno lui come personale principale, personaggio protagonista letteralmente e gemoni di una scena che non passa di certo inosservata. Bene, auguro a Pupu ogni bene. Probabilmente questa serie la vedremo anche in tv. Iscrivetevi, se vi va a alcun canale di narratore italiano, commentate. Ciao a tutti e una buona giornata.